Bella a tutti Forniters, benvenuti e bentrovati su Leontube Eccoci in questo video per andare a vedere il negozio oggetti di Fortnite di oggi San Valentino 14 febbraio 2024, buon San Valentino a tutti Ma partiamo subito con quello che ci offre il negozio quest'oggi Bundle McLaren 765LT, scendiamo E le propulsioni come sempre continuano le gambe tutti i giorni scorsi E la ruota Santa Fe Bundle Tartaruga Ninja Bundle April O'Neil Passiamo veloci in rassegna perché sono state già viste personaggi di Splinter Bastoni di Splinter, Bundle, strumenti DMT Eccoli qua gli strumenti delle Tartaruga Ninja anche in singolo a 1500 VBAC Mentre a 3000 L'intero set Ancora serie Marvel, il remix di Ditpol con l'attrezza di Ditpol Il bundle, il bundle Ditpol, il remix di Ditpol Con due skin e bundle di Blade, il costume più che altro compreso di Piccone a 2000 VBAC La sua emote pirouetta del diurno E il deltaplano quello diurno E ecco qui nel negozio Per chi non fosse riuscito a vincerlo tramite il campionato Del bundle CCFN C5S1 capitolo 5 stagione 1 a 1600 VBAC Che comprende quindi questa skin senza altri stili Il dorso decorativo FNCS Il piccone lama del campione La copertura colori del campione La musica Make it know E anche la traccia gem da utilizzare Make it know Ovviamente possiamo comprarli tutti anche in singolo E questa è una novità Sono nuove Il bundle The Weeknd ancora presente Anno del Drago Wukong Piccone Jingu Peng Bundle in Guardiana Copertura Guardiano Dorato E piccone il Drago di Giada L'amore nell'aria Eccolo qua sempre dedicato a San Valentino Bundle Scala Reale L'abbiamo già visto nei giorni scorsi Re delle Coccole Batticuore Percussore E tutti gli oggetti vari Il bundle Tess Anche lui Sempre a 1800 v-back In tutti gli oggetti Tarnere il dorso decorativo Acquistabili In singolarmente Perché il dorso è compreso nella skin Originali in evidenza Arriva un'altra embot Nessuna cura Strega Surf Che c'era anche ieri Rubino Viene aggiunta Diciamo oggi Ma Abbiamo già Che è una skin Che gira spesso Sta girando spesso In questo periodo Nelle sue quattro varianti E il suo dorso decorativo In tre stili Qui andiamo a vedere Tutti quanti Costume girasole Anche lei gira Abbastanza spesso Nel negozio E costume Rex Anche questo gira spesso Nel negozio Bundle Bundle orgoglio prismatico Aggiunto ieri Bundle sonor Qualche giorno fa Il mio editore Va in scena Anche le embot E poi hanno riproposto Il bundle Soldatino Con due skin Diciamo maschile Femminile Con tre Con tre stili Quindi sono tre colori Diversi E poi abbiamo Anche tre coperture Varie La copertura Tutta verde Bianca Che poi Un po' più sul grigio E rossa E poi abbiamo Stile distintivo Rinnegata 800 V-Buck Senza zainetto Senza nulla Ricognitrice della giungla Anche lei Senza zainetto Senza nulla Macabir Costume Da 1500 V-Buck Comprensivo Di Dorso decorativo E questa è una skin Animata reattiva Gloomball Dorso decorativo Poi abbiamo Avviso aperto E a pioggia C'erano già Gli altri giorni Jolly Costume Jolly Costume Canaglia Che c'era sì Anche ieri Con la versione Ape Strega Surf Che vediamo È stata aggiunta Sia qui Che l'avevo vista Anche da qualche Altra parte Ok mi sbaglio Perfetto Comunque Riproposta Anche ieri C'era Ah ecco Strega Surf E quest'altra Ecco perché Non la trovavo Dacci dentro Le motte Poi il passo Del pigrone Che c'era anche ieri Forse c'era anche Questa Ieri E poi Per la serie Pionieri Pijama Margherita Con il dorso decorativo Quattro formaggi In due varianti Più scura E più chiara Poi abbiamo Il piccone Axe Roni Un bel tagliapizza Questo è carino E deltaplano Formaggio extra Poi abbiamo Sagan Costume Con degli stili Selezionabili Sono due Quindi Pioritura Primaverile E l'altro E poi abbiamo Stellan Guardiamo Del parco Proposti Anche tutti Questi costumi Con due stili Con e senza Maschera Diciamo Il belmo Comprensione Del dorso decorativo Molto bello Questo dorso decorativo Poi attrezzatura Per il festival Sempre la stessa Microfono gelato Batteria Dell'alta società Personalizzabile In diversi stili Chitarra filigrana Tracce gem In rotazione Che Ok Dovrebbero arrivare Nuove Poi abbiamo Sempre il pacchetto Incarichi Di evoluzione Che ci fa scalare 28 livelli Andando a fare Degli incarichi Trovare i gettoni 25 livelli Del pass battaglia La crew Di fortnet Come sempre Le offerte speciali Pacchetto Incarichi Inferno E pacchetto Incarichi Basso Abbiamo Abbiamo anche Qui due skin Un dorso decorativo Qua una skin Un piccone Una copertura Qui diciamo Che 8,99 Abbiamo il prezzo Dei 1000 v-back Di qua In proporzione Costano Ancora meno Perché Se 1000 Costano 9 Più o meno Siano lì Però Leggermente meno Poi abbiamo Sempre i pacchetti Elite dorato Con tutti gli oggetti Che vediamo qua Senza incarichi Senza niente Il pacchetto Max Relax Con 600 v-back Anche questo Senza Senza niente Diciamo Senza incarichi Senza niente E poi abbiamo Il pacchetto Salva il mondo Che ci da Fino a 1500 v-back Per chi Non gioca Da Nintendo Switch E ok Quindi abbiamo Terminato anche oggi Il negozio Oggetti Sono state aggiunte Delle belle riproposizioni Abbiamo questa novità Questa nuova Emote Aggiunta Oggi Per la prima volta Se il negozio Oggetti E il video Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace E lasciate anche un bel commento Sotto il nostro video Se ancora non l'avete fatto Vi invitiamo a iscrivervi Al nostro canale E non dimenticate Di cliccare la campanella Per non perdere I nostri aggiornamenti Ciao a tutti